Prevenzioni infortuni domestici in Sicilia contro la rovescia per tutelare le casalinghe. Essere esposti a rischi lavorando in casa è quanto accade in particolari condizioni tipiche dell'ambiente domestico, che spesso sono sottovalutate, a volte una piccola imprudenza o distrazione durante l'uso di elettrodomestici, detergenti o prodotti chimici, e la premessa a incidenti quotidiani, che possono anche avere gravi conseguenze. La polizza, istituita nel 1999, è stata migliorata con la legge di bilancio del 2019, che ne ha esteso la tutela ed ha abbassato dal 27% al 16% il grado di inabilità permanente necessario alla Costituzione nella rendita ed introducendo una tantum rivalutabile se l'inabilità permanente è tra il 6% e il 15%. Ammonterà così a 337,41 centesimi di euro. In caso di assistenza personale continuativa è stato anche riconosciuto l'assegno mensile perché è in condizioni particolarmente gravi, mentre in caso di infortunio mortale l'assegno una tantum ammonta a 10.742,76 centesimi di euro. In caso di iscrizione e di rinnovo, cosa dovranno fare le persone? Chi è già assicurato riceve una lettera dall'INAIL con l'avviso di pagamento Pagopà, precompilato con i dati anagrafici e l'importo da versare entro fine mese. La copertura assicurativa inizia dal 1 gennaio se il pagamento è effettuato entro il 31 gennaio. Se il versamento è effettuato dopo questo termine, l'assicurazione decorre dal primo giorno successivo al pagamento. Per la prima iscrizione è invece necessario accedere al servizio online dell'Istituto tramite speed.co.cns e compilare la domanda di iscrizione e richiesta con avviso attendendo la mail di conferma. Chi ha un reddito annuo lordo fino a 4.648 euro o un reddito familiare complessivo lordo che non supera i 9.296 euro è esonerato dal pagamento del premio e dovrà semplicemente presentare un'autocertificazione utilizzando i servizi telematici dell'Istituto.